Questo è uno di quei video che letteralmente mi manda fuori di testa, subito dopo la sigla. Ciao ragazzi, ben ritrovati come sempre qui sul mio canale YouTube. Oggi sono super super contento e lo vedete anche dai prodotti che ho qui davanti a me sulla scrivania. Ne sono davvero diversi. Sono degli accessori per iPad, iPad Pro ma anche iPad normale. E sì ragazzi, perché io amo questi prodotti e soprattutto mi sono molto molto utili nella produttività del quotidiano. Cerco tutto ciò che può aiutarmi a fare determinate operazioni davvero in velocità ma soprattutto in comodità. E allora, dovete sapere qual è il retroscena. Io sono un amante dei prodotti di un brand in particolare. Brand che si chiama TomTalk. Sono stato io a contattarli e vi dico la verità, non ci speravo. Ebbene, loro sono stati così gentili da inviarmi diversi dei loro prodotti. Alcuni li avevo già io e proprio perché li ho provati volevo proporli anche a voi. Sono accessori di estrema qualità, come vedremo. Non sono super super economici, però secondo me hanno un giusto prezzo. Quindi accessibili a tutti quanti e farete davvero un ottimo affare. Ma ragazzi, non mi voglio dilungare. Vi voglio subito far vedere di che cosa si tratta, cosa ho qui davanti a me. Vi dico che trovate i link qui sotto in descrizione al video, ma li trovate anche sul mio canale Telegram di offerte tech. Anche di quello, link qui sotto in descrizione. Oppure cercate Jutech su Telegram e troverete tantissime offerte, codici sconto, errori di prezzo, minimi storici. Chi più ne ha, più ne mette ragazzi. Credetemi, vale la pena iscriversi. Comunque, bando alle ciance e partiamo con il primo prodotto. E allora partiamo con il primo prodotto di TomTalk, che è una cover per iPad Pro. Vi faccio vedere subito ragazzi la parte posteriore, perché mi voglio soffermare sul foro per le fotocamere. Come potete notare, proprio da lui, è facile capire che si tratta di una cover per iPad Pro, nello specifico questa è da 11 pollici, ma c'è anche la versione a 12,9 pollici, che è atta ad ospitare iPad Pro di ultima generazione. Ma attenzione, la particolarità è che lei, oltre a questo, può ospitare anche gli iPad di primissima generazione. Parlo di quelli da 11 pollici o 12 pollici, non quello da 10 pollici, quindi non quel modello. Allora, lei è adatta, è fatta, guardate, davvero molto molto bene. Questa è la parte anteriore con il logo TomTalk. La vado ad aprire prima di andare a guardare alcune particolarità della conformazione della cover stessa. All'interno è fatta in plastica molto molto resistente. Mi piace anche la trama che va a ricordare un po' la fibra di carbonio. Ecco qui il foro per il comparto fotocamere. Ed è una cover che va a proteggere interamente il nostro iPad. Infatti, guardate, abbiamo una gommatura laterale. Tra l'altro agli spigoli abbiamo un'ulteriore protuberanza che va proprio a riparare da graffi gli spigoli stessi. Ma la caratteristica essenziale è che lei può andare ad ospitare anche la Apple Pencil. Vado a prendere la Pencil, eccola qui. Adesso c'è questa cover di Elago. Magari vi lascio il link anche di questa in descrizione. Va a posizionarsi proprio in questa maniera e l'iPad andandosi ad appoggiare a lei la va anche a ricaricare magneticamente. Dunque una cover che va a proteggere proprio tutto quanto l'iPad. Qui vedete abbiamo una parte gommata ancora più doppia dove ci sono i tastini molto comodi da premere che poi andranno ad agire su quelli dell'iPad. Altra particolarità di questa cover è il fatto che lei permette l'utilizzo in diverse posizioni. Adesso l'ho aperta in questa maniera, poco forse si comprende, ma in una posizione orizzontale possiamo andarla a mettere in questo modo, così da poter andare a fruire di film, di serie TV in maniera molto semplice. Possiamo appoggiarla anche sulle nostre gambe mentre siamo sul divano, ma lei permette anche un altro tipo di utilizzo. Chiaramente possiamo andarla a posizionare in questo modo ed è una posizione da disegno che la rende molto molto comoda per scrivere, appunto per disegnare, ma lei può essere utilizzata come uno stand anche in posizione verticale, cosa che tantissime altre cover non hanno. Come si fa? Basta semplicemente posizionarsi in questa maniera, guardate, fare una sorta di triangolo, questa parte è magnetica e nella parte inferiore andare a piegare questa aletta. Quindi una volta messa così, ecco che lei è perfettamente stabile e potremo fruire del nostro contenuto in verticale senza nessunissimo problema e in maniera davvero molto molto comoda. E messa da parte la prima cover di TomTalk, voglio passare alla seconda. Credetemi ragazzi, questa è un vero e proprio gioiellino. Guardatela all'esterno, ha più o meno le stesse caratteristiche della precedente, l'aletta che permette di andarla a posizionare in verticale, quindi come uno stand, ma questa è magnetica. Quindi non è una cover di quelle che vanno ad avvolgere completamente l'iPad, bensì rende più fruibili quelle operazioni di sgancio del dispositivo stesso. E adesso lo vado a prendere proprio per farvi vedere con estrema semplicità come questa cover è applicabile, ma le caratteristiche che ha. Anzitutto vi faccio notare quest'altra aletta laterale che va praticamente a chiudere la cover per andare a proteggere la Apple Pencil. Dunque protegge la Pencil, ma fa in modo anche che tutto sia ben saldo, anche se non ce n'è bisogno. La particolarità ragazzi di questa aletta laterale è il fatto che lei è magnetica da entrambe le parti, quindi guardate, si può staccare. Se ci piace la teniamo, se non ci piace possiamo tranquillamente toglierla. La mettiamo da parte, ad esempio, vado ad aprire la cover, bellissimo questo materiale interno, profuma anche tantissimo. Vado a posizionare il mio iPad, anche questa ovviamente per un 11 pollici e vale lo stesso discorso della precedente. E l'iPad, ecco, che guardate, rimane protetto al massimo. Qui potrete andare a mettere anche un accessorio come questo, che occupa un po' più di spazio, quindi si va a posizionare. Qualora voleste essere più sicuri, no? Prendete la vostra protezione e l'andate ad applicare magneticamente. E il gioco è fatto. Ma ragazzi, non è finita qui. Infatti, questa cover, abbiamo detto, è magnetica, certamente. Posso andare a sganciare l'iPad così come lo sono andato a mettere, però guardate, posso sganciare l'iPad togliendo la parte posteriore della cover e lasciando un'ulteriore protezione al mio iPad. Sempre magnetica. Guardate, mi va a proteggere l'iPad. leggerissimo, si può dire praticamente che il peso non cambia e il mio iPad è praticamente sempre coperto, sempre protetto. Quindi mi basterà prenderlo e andarlo a posizionare in tutta tranquillità sulla cover e chiuderlo. Ma un'ulteriore particolarità di una soluzione come questa è che qualora volessi usare la mia Magic Keyboard come stand, attenzione ragazzi, dico come stand e non per farla funzionare come tastiera, perché chiaramente qui non ci sono i fori che poi vanno ad agire sui tre connettori della Magic Keyboard, comunque sia lui si aggancia magneticamente, quindi posso usarla come stand e questo vi fa capire che potrete utilizzare il vostro iPad anche su altri stand senza andare a togliere la protezione posteriore. Ma detto questo ragazzi, passiamo a vedere il terzo e il quarto prodotto. Voglio presentarveli insieme perché in fondo si tratta della stessa cosa, ma hanno soluzioni differenti al loro interno. Sto parlando di custodie da trasporto per il nostro iPad, custodie da trasporto molto ben realizzate, guardate, bombate come sono solide, resistenti, ma custodie da trasporto che al loro interno nascondono ulteriori tasche, ulteriori elastici per poter andare a posizionare i nostri accessori. Vi faccio vedere la prima, questa grigia, che è la prima che ho avuto e della quale mi sono innamorato. Ecco, è una custodia molto sottile, si apre in questo modo e al suo interno abbiamo un duplice scomparto. Primo scomparto, tutto quanto in tessuto per andare a proteggere il nostro iPad, che appunto permette di andare a sistemare il nostro iPad. Guardate, ci va anche la Magic Keyboard, ma io l'ho usato con la tastiera di Logitech, con la Combo Touch, quindi ci va anche quella. Aletta laterale che mi va a proteggere l'iPad e qui tutta quanta una serie di elastici che mi permettono di andare a mettere una Pencil, i cavi, un powerbank, come vi farò vedere. E qui abbiamo un ulteriore scomparto, in realtà ne sono due, perché possiamo mettere dei cavi qui sotto, ma in quest'ulteriore tasca, separata da questa, potremmo mettere, non lo so, una pezzolina, qualcos'altro. Insomma, una custodia davvero molto capiente, ma vi dicevo, e ve l'ho fatta vedere, ce n'è un'altra simile a questa, ma ha una particolarità, guardandola da qui è leggermente più bombata. Vedete, fa questo movimento. Perché questo, ragazzi? E qui è la vera sorpresa. Innanzitutto ve la vado ad aprire, anche qui guardate, doppio scomparto, possiamo andare a mettere il nostro iPad all'interno, come ho fatto in precedenza. Questa protezione, ecco qui tutti gli accessori, guardate, un powerbank, un caricatore, un hard disk, addirittura due adattatori USB, pen drive, penne, eccetera. Abbiamo anche qui lo scomparto, si alza questa parte e si vanno a mettere delle cose, io ho messo dei cavi, ma qui c'è un ulteriore scomparto. E a che cosa è dedicato? Beh, certo, potrete metterci quello che volete, ma l'idea originale era di metterci questa. Ragazzi, guardate, la Logitech K380 ci va perfettamente. È proprio fatta per questa tastiera, si inserisce perfettamente, qualora non aveste la Magic Keyboard e volete portarvi appunto una tastiera, si mette e si va a chiudere. E infatti, guardate, la forma è fatta apposta. E poi abbiamo la nostra comoda maniglia che ci permette di portare tutto. Mi piace molto anche la rifinitura di questi laccetti in rosso. Questa, ragazzi, è la mia custodia attuale. Infatti l'avevo vista e ho deciso di mettere da parte questa, o meglio utilizzarla per altro, e poi andare in giro con questa. È una figata pazzesca perché ci entra tutto. Ma adesso, ragazzi, terminate di vedere le cover per iPad, le custodie da trasporto, arriviamo all'ultimo accessorio. Accessorio del quale mi sono innamorato letteralmente, ma del resto come anche degli altri. E si tratta di una borsa che Tomtok mi ha inviato. È una borsa particolare, ha un tessuto davvero molto molto resistente e soprattutto permette anche di resistere a quelli che sono gli schizzi d'acqua, le gocce di pioggia, quindi potrete tranquillamente portarlo all'aperto anche quando c'è maltempo. È una borsa che mi è piaciuta tantissimo proprio per il suo form factor. Anzitutto, questa è la parte anteriore. Abbiamo una prima cerniera per una piccola tasca, dove all'interno, non so se si riesce a gustare, ci sono ulteriori tasche e c'è anche un laccetto rosso per andarci a mettere le chiavi o quant'altro. Poi, guardate, abbiamo delle bretelline molto molto belle che non vanno ad aprire una tasca anteriore, ma semplicemente sono pensate allungandosi, aprendosi, per andare a posizionare un ombrello, ma volendo anche un cavalletto se volessimo utilizzare la borsa per metterci del materiale fotografico se andiamo all'aperto per fare qualsiasi cosa. Lateralmente abbiamo delle fascette, anche qui possiamo andare a posizionare quello che vogliamo e magari agganciarlo. Poi, nella parte posteriore, e la metto qui, abbiamo un'altra tasca, anche questa piccolina, ma ci va davvero tantissima roba. Infine, è la tasca più grande, eccola, che va ad aprire la borsa e guardate quanto spazio c'è. È davvero molto molto grande. Abbiamo un'ulteriore tasca, possiamo metterci il nostro iPad, ma volendo possiamo metterci anche dei computer portatili sottili, non so, un MacBook Air. Abbiamo ulteriori tasche, magari per andare a mettere il mouse, cavi, e abbiamo un'altra tasca con la cerniera, quindi doppia cerniera. Insomma, come avete visto, una borsa dove ci va davvero tantissima roba. Provo a mettere questo, che significa proprio andarla a mettere alla prova. E vedete, ci sta davvero molto molto bene. Posso anche prenderla con la sua maniglietta. C'è una tracolla fighissima, posso allungarla davvero tanto. Mi piace anche la rifinitura, no? Vedete, non è un semplice elastico, ma è un fermo in plastica che si va ad aprire e va appunto a mantenere la bretella in maniera fissa, senza che questa parte va a penzolare. Si può allungare tantissimo, quindi posso utilizzarla anche come monospalla, metterla dietro, non per forza solo su una spalla, e ha anche una imbottitura, che poi permette di mantenerla comoda sulla nostra spalla, senza che vada a pesare troppo. Quindi una borsa, degli accessori, ragazzi, davvero super super promossi, ma vi ripeto, mi sono sempre piaciuti, mi sono deciso a chiederli per portarveli in video, ma anche perché mi sono utilissimi per la produttività del quotidiano. Ci metto davvero di tutto dentro, ho sempre tutto a portata di mano, e sono felice così. Vi ricordo allora che li trovate linkati qui sotto in descrizione, oppure sul mio canale Telegram di offerte e codici sconto. Se questo video vi è stato di aiuto, ragazzi, sapete come sostenermi, like, iscrizione al canale, mi faranno piacere. Noi ci aggiorniamo, per qualsiasi problema tech c'è anche la chat Telegram di supporto, sempre link qui sotto in descrizione, e ci vediamo in un prossimo video, ovviamente sempre qui sul mio canale YouTube. e ci vediamo in un prossimo video.